Beh ragazzi, questo è iPhone 12, se mi seguite su Instagram sapete un attimino già un bel po' di cose, anche se mi seguite su Upgrade perché abbiamo fatto live batteria, diversi test per quanto riguarda la fotocamera e inoltre sapete anche bene che questo qui alla fine lo sto provando da soli tre giorni, qualcosina in più, qualcosina in meno e quindi non siamo neanche in una recensione, ma siamo proprio in un esperienziale, cioè vi voglio proprio spiegare la mia esperienza con questo dispositivo perché già in questi giorni ho capito il senso, secondo me, e capirete poi all'interno del video di questo dispositivo e quindi nulla, ci facciamo una chiacchierata ecco e capiamo un attimino come si comporta ma vi dico subito che se dobbiamo descrivere al 100% questo dispositivo in una parola o con un aggettivo beh direi assolutamente giusto e capirete sempre all'interno del video, quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere andiamo direttamente al punto e iniziamo Allora ragazzi Partiamo dal fatto che sto provando questo dispositivo soprattutto grazie a Telefone Granata e Zorro.it dove poi alla fine andrete a vedere anche la recensione completa quindi mi raccomando seguitemi anche lì, trovate il link sempre qui sotto in descrizione anche del sito eccetera eccetera quindi mi raccomando fateci un salto ma devo partire in linea generale assolutamente dal design e questa volta parto dal design perché effettivamente l'ho detto diverse volte anche nel video dedicato proprio all'evento Apple che poi c'è anche su Diario Tech che effettivamente questo smartphone non mi aveva convinto tantissimo al lato design dalle foto e dai video non mi convinceva ma il mio parere, il mio giudizio, il mio pensiero è cambiato subito una volta tolto dalla scatola tra l'altro l'unboxing devo dire che mi ha un po' deluso soprattutto per quanto riguarda la pellicola principale che è fatta diciamo in carta si perde un attimino quel feedback interessante e particolare ma vabbè poi non c'è il caricatore qui potremmo stare ore e ore ma voglio realizzare un video un po' particolare che poi vedrete o comunque un podcast vedrete quindi preparatevi attivando la campanellina ma comunque tornando a noi vi dico che una volta tolto dalla scatola un po' deluso dall'unboxing sono rimasto poi sorpreso, piacevolmente sorpreso dal design perché è veramente molto molto bello ragion per cui torna sempre il discorso che non bisogna avere pregiudizi finché poi non si va a provare una determinata cosa, servizio eccetera eccetera infatti vi dico che è molto ben costruito mi piacciono i materiali ovviamente parliamo sempre di materiali top vetro anteriore e vetro posteriore questa è una porzione bianca che devo dire però essere molto molto piacevole alla vista con questo poi parte così opaca per quanto riguarda la fotocamera sensori ad occhio sembrano anche leggermente più grandi ma comunque ben ottimizzati all'occhio quindi sempre per quanto riguarda il design simmetria, un pochettino di cose così un pochettino così feticismi da design possiamo dirlo, non lo so ma comunque molto bello esteticamente e questo frame squadrato devo dire che permette di avere una presa migliore anche se il dispositivo poi diventa un attimino più grosso dico questo perché come da titolo oggi voglio fare anche un piccolo confronto con iPhone 11 Pro perché potrebbe essere comunque interessante perché dico questo perché questo qui è un display o comunque ha un display da 6,1 pollici quindi leggermente più grande di iPhone 11 Pro nulla di esagerato cioè non è che parliamo di dimensioni esagerate però comunque le dimensioni sono leggermente più importanti forse l'aggettivo è anche un attimino sbagliato però comunque è più grosso ecco e nell'utilizzo quotidiano devo dire che sento questa differenza più leggero ma più grosso e quindi preferisco l'11 Pro per quanto riguarda l'utilizzo quotidiano secondo me quelle sono dimensioni perfette allo stesso tempo però secondo me potrebbe essere comunque lui quello giusto come vi dicevo in apertura perché appunto vuoi il display che è veramente fantastico finalmente abbiamo un OLED perfetto in qualsiasi condizione di luce perfetto per la visione di video serie tv qualsiasi cosa anche per quanto riguarda l'audio vi stavo dicendo vuoi un po' le dimensioni vuoi un po' il peso vuoi un po' l'utilizzo secondo me è quello giusto anche sotto questo punto di vista il mini forse per chi proprio vuole uno smartphone perfetto per utilizzare una mano e non ha bisogno comunque di un display magari buono per editare qualche foto perché comunque avere un display leggermente più grande fa sempre meglio editare qualche video eccetera eccetera tornando al nostro discorso andrei subito avanti parlando assolutamente della batteria che qui si rimpicciolisce ragazzi e nello specifico parliamo di una batteria da 2770 mAh controllo subito e vi dico che è sì 2775 mAh contro i 3046 mAh del mio iPhone 11 Pro ebbene vi dico che si rimpicciolisce ma vuoi un po' quel processore vuoi un po' l'ottimizzazione Apple questo smartphone comunque vi porta a sera con circa il 10% di batteria attenzione dipende da tutto l'utilizzo abbiamo fatto live batteria se volete approfondire andate comunque su upgrade trovate tutte le foto tutto praticamente sempre online ma comunque lui per quanto riguarda il mio utilizzo anche stressandolo arriva a sera con il 10% leggermente quindi inferiore al mio 11 Pro che comunque si comporta sempre bene ancora oggi va una bomba per quanto riguarda la batteria ma comunque direi in linea o comunque ci siamo e quindi non soffermiamoci troppo sul numero 2775 pochi sì ma comunque si comporta bene vi parlavo del processore che analizziamo a breve ma al stesso tempo voglio comunque dirvi che il riconoscimento facciale funziona sempre bene per il momento non mi ha dato mai problemi ma comunque parliamo sempre del Face ID di Apple microfoni ottimi anche per quanto riguarda l'audio ottimo abbiamo un audio stereo veramente bello corposo mi piacciono anche i bassi e allo stesso tempo vi dico che per quanto riguarda il processore c'è da dire che se nell'utilizzo quotidiano ecco nelle prestazioni quotidiane che magari potrebbe essere ecco l'utilizzo di Twitter Instagram app per prendere note fotocamera anzi non fotocamera c'è un altro discorso da fare che faremo a breve ma comunque a utilizzo normalizzato le prestazioni sono praticamente comparabili se non uguali a un iPhone 11 iPhone 11 Pro quindi veramente siamo lì lì non si vedono le differenze assolutamente tutti vanno bene gli iPhone vanno tutti bene è ok ma questo A14 Bionic con questo processo produttivo A5 Anomidi super interessante fa la differenza seppur non eccessiva quando poi lo andate un attimino a stressare particolarmente e vi dico magari nell'esportazione di un video io ho provato ad esportare un video in 4K 25 fps girato dalla mia Sony A6400 perché alla fine 25 perché alla fine è il formato con cui poi vado a registrare e ho provato anche a giocare a Genshin Impact 60 fps è sempre bello fluido e devo dire che si nota una differenza si nota la differenza più che altro nella stabilità in game e nella velocità leggermente superiore nell'esportazione però per il resto anche qui nulla di esagerato secondo il mio modesto parere in base ai test che finora ho effettuato non è nulla di nuovo per quanto riguarda le prestazioni siamo abbastanza in linea non voglio fare benchmark non voglio fare nulla perché non me ne è mai fregato nulla e voi lo sapete però utilizzo quotidiano esperienza non cambia praticamente nulla se proprio vogliamo andare così nella soggettività razionalmente oggettivamente ci sono dei miglioramenti ma nulla di esagerato andando avanti parliamo invece delle fotocamere qui invece si sente la mano del processore e vi dico subito il perché partiamo dal fatto che abbiamo tre sensori uno anteriore due posteriori il sensore anteriore nello specifico è un 12 megapixel vi dico subito anche l'f che dovrebbe essere f2.2 esatto f2.2 nella parte anteriore mentre nella parte posteriori abbiamo due sensori da 12 megapixel sempre uno grandangolare l'altro ultra grandangolare uno f2.4 l'ultra grandangolare f1.6 per il sensore principale che riescono comunque a registrare video fino al massimo di 4k 60fps detto questa cosa tolto questo pippone per quanto riguarda i numeri che come al solito sapete bene non mi piacciono tantissimo vi dico che si comporta molto bene fa delle ottime foto molto bene migliora la fotocamera anteriore comunque mi piace e migliora soprattutto il bokeh ma se nel diciamo in questo caso di giorno comunque con condizioni di luce ottimali lui fa dei buoni scatti ottimi ma comunque in linea con un iphone 11 pro infatti la differenza non si vede per nulla sono praticamente sovrapponibili abbiamo fatto diversi test e confermo praticamente tutto con scarsa luminosità quindi con la modalità notturna beh qui si vede la mano del processore si vede comunque l'apertura focale migliore e vi dico che effettivamente le foto sono migliori e allo stesso tempo vi dico che in questo caso possiamo attivare la modalità notte anche con il sensore ultra grandangolare quindi qui abbiamo veramente un feedback o comunque un risultato decisamente interessante anche per poi la creazione di contenuti online per i social eccetera eccetera e parlando poi anche di contenuti online per i social eccetera eccetera vi dico in assoluto che questo qui è un dispositivo perfetto perché registra dei video spettacolari anche in questo caso tengo comunque a sottolinearlo perché la verità è quello che penso io poi fatemi sapere magari se avete già provato questo smartphone avete provato anche un 11 pro non stravolge un 11 pro migliora qualcosina infatti abbiamo comunque video spettacolari sempre al top ancora una volta Apple si conferma come la migliore assolutamente c'è da dire che bisogna provare l'11 pro anzi il 12 pro max scusatemi perché lì abbiamo effettivamente un sensore con pixel da 1,7 micron quindi più grandi stabilizzazione attivata proprio sul sensore quindi lì abbiamo la tecnologia nuova però comunque vi dico che comunque questo 12 pro questo 12 funziona bene fa dei bei video ma non stravolge il 11 pro andando invece verso le conclusioni perché arrivati a questo punto siamo arrivati alle conclusioni vi dico che questo è un dispositivo che mi è piaciuto secondo me vi ripeto è l'iPhone giusto perché è quello più equilibrato li devo testare sottolineo ma così a naso provandolo è secondo me quello più equilibrato per rapporto qualità prezzo per dimensioni per fotocamera per quello che poi va a offrire vi dico che se avete un iPhone 11 non pro 11 potrebbe aver senso passare a lui perché il design potrebbe essere più interessante ma più che altro vi direi fotocamera per la modalità notturna ma soprattutto per questo qui che è il display che è estremamente migliore rispetto ad un iPhone 11 non è da buttare iPhone 11 però capiamoci che questo è un OLED e la qualità è veramente eccezionale angolo di visione luminosità sempre fantastico in qualsiasi condizione di luce per quanto riguarda invece iPhone 11 Pro sinceramente io non passo a lui forse la scelta giusta potrebbe essere un iPhone 11 Pro Max vi ripeto ma acquistare secondo me un 12 12 Pro non ha tanto senso iPhone 11 Pro va ancora più che bene e infatti io lo tengo voglio provare 12 Pro Max magari cambio con un 12 Pro Max ma per il momento lui mi ha convinto ma non è un qualcosa che stravolge ho provicchiato 12 Pro proveremo ancora più approfonditamente 12 Pro e quindi faremo i soliti confronti faremo tutto quello che dobbiamo fare però per il momento vi dico che questo è quello giusto ma che non stravolge l'ho detto troppe volte forse avete ragione ma questa è la mia esperienza questo è quello che penso e oggi io comunque in questo video volevo proprio parlarvi di questo per quanto riguarda dati tecnici eccetera eccetera comunque andare un attimino più nel dettaglio prove stress test perché addirittura mi sono messo a fare ragazzi i calcoli della scarica della batteria per esempio ve lo dico giusto a fine video Spotify un test ho fatto un test da 49 minuti che ha iniziato 56% di batteria è finita poi a 49 minuti ovviamente con 54% quindi meno il 2% in 49 minuti Netflix in 57 minuti meno del 7% mentre in download lunga durata quando ho scaricato Genshin Impact ho lasciato tutto acceso ovviamente perché dovevo scaricare il gioco è iniziato al 93% quindi il secondo giorno ed è finito al 77% quindi in un'ora e il 19% ha perso un po' di carica ma comunque ci potrebbe stare perché ha scaricato ha fatto un po' di cose così e vi dico che ho utilizzato un po' di dati mobili ma soprattutto sono stato sotto rete wifi perché sì quindi va bene e recezione ottima tutto il resto va bene devo provare ancora un pochettino per quanto riguarda le chiamate tutte queste cose qui però comunque è sempre un iPhone è sempre un ottimo dispositivo e devo dire che mi ha convinto e mi piace mi piace poi il resto l'ho detto già nel video voglio sapere la vostra fatemi sapere che cosa ne pensate ma a questo punto direi che per oggi è tutto un bacione e un abbraccio vi ringrazio come sempre per il supporto ci vediamo prossimamente con nuovi video e sicuramente nuovi test su questo iPhone 12 12 basta e mi raccomando se sapete o comunque volete sapere qualcosa di specifico fatelo sapere qui sotto nei commenti se volete qualche test specifico fatelo sapere qui sotto nei commenti nel video non so se metto qualche vostro commento ma comunque ho cercato anche di elaborare un discorso che andava poi a soddisfare tutte quelle che sono state le domande che avete fatto poi su Instagram arrivato a questo punto però vi ripeto grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti